In una città così ricca di monumenti, così ricca di pietre vive, cariche di storia, quando si riesce a recuperare un monumento e a restituirlo ai cittadini è sempre un momento importante. Per la Chiesa di San Domenico addirittura i monumenti recuperati erano due. Noi siamo con l'ingegner Chelsea che ha diretto i lavori di recupero dei due campanili. Buonasera l'ingegner Chelsea. Grazie, buonasera anche a voi. In che condizioni erano i due campanili prima di iniziare i lavori? Era una condizione che avevano bisogno di questo intervento. Non c'era sicuramente un pericolo immediato, però avevamo riscontrato qualche piccolo croio, avevamo riscontrato uno stato di conservazione molto faticente, per cui era arrivato il momento che anche loro beneficiasse di questo maquillage, che è stato sia monumentale come recupero, sotto l'aspetto del recupero e del risanamento conservativo. È stato anche statico perché c'era anche l'opportunità di procedere al miglioramento della risposta sismica, in ottemperanza a quelle che sono le prescrizioni attuali sull'obbligo di salvaguardia del patrimonio culturale nazionale. Quindi abbiamo approfittato per fare sia una cosa che l'altra. Andava fatto e forse questo è stato il momento giusto per farlo. Abbiamo parlato di due monumenti restituiti alla città, effettivamente adesso sono visitabili, sono accessibili i due monumenti e la terrazza su cui sono ubicati? Sì, restituiti perché avevamo riscontrato nei mesi passati qualche piccolo crollo e quindi per sicurezza era stata fermata l'attività delle campane. Quindi in questo senso sono stati restituiti alla città e alla comunità parrocchiale innanzitutto, quindi adesso tornano a far sentire la loro voce per chiamare la comunità e la parrocchia nei suoi momenti di fede. Allora, un bel risultato a quanto pare? Sì, a quanto pare è stato un buon risultato in quanto abbiamo messo a disposizione tutte le nostre forze affinché questo restauro potesse andare in porto. Ci ha fatto fare parecchi sacrifici sia da parte nostra dell'Arciconfraternita del Rosario sia da parte anche della parrocchia San Giovanni Evangelista di cui il Don Ciccio qua fredda e il Padre Spirituale. Adesso speriamo di fare altre cose nel futuro, sempre con lo stesso spirito, vedremo un po' cosa ci riservirà il futuro. Da Presidente ci può anticipare già che tipo, quali sono le prossime iniziative che intende adottare l'Arciconfraternita? Per quanto riguarda la chiesa, sicuramente nel futuro si rifarerà il pavimento della chiesa e verranno poi installati anche il riscaldamento, però questo sempre se le risorse economiche ci potranno essere favorevoli come ci sono state adesso. Quindi staremo a vedere nel futuro cosa potremo fare. Però questi sono gli obiettivi. L'architetto Corvisieri della EcoArc di Bari ha curato i lavori di restauro dei due campanili. Allora, architetto, è stato difficile, è stato complicato riportare, restituire alla cittadinanza questi due bei monumenti? Beh, diciamo abbastanza impegnativo più che altro. È stata comunque una bella avventura, ecco, perché intanto dovevamo conoscere gli interventi, ecco, fare dei saggi, capire bene quello che era successo ovviamente nel corso degli anni. Abbiamo fatto un intervento di, intanto, di messa in sicurezza perché c'erano delle parti che erano veramente abbastanza pericolanti e poi del pre-consolidamento e il consolidamento, infine. Poi ovviamente le stilature, tutto quanto è stato ovviamente eseguito dalla soprintendenza di Bari, dall'architetto Pellegrino. Abbiamo fatto una serie di campionature e abbiamo cercato soprattutto di restituire il manufatto nello stato originario, quindi con gli stessi colori, prendendo le stesse tracce, anche le stesse tinteggiature. Abbiamo cercato, ecco, di intanto utilizzare materiali assolutamente compatibili, perché sono degli edifici storici, quindi necessariamente dobbiamo utilizzare dei materiali compatibili con quelli storici. Ovviamente, ho detto, proprio attraverso le stratigrafie, utilizzare gli stessi colori che erano stati utilizzati un tempo. Quindi, comunque, un bel impegno, un bel impegno da parte di tutti, ecco, devo dire, una bella squadra. Gli operai, ovviamente la nostra impresa, l'ingegnere Scelsi, l'architetto anche che ha seguito, l'architetto ovviamente Pellegrino della soprintendenza, un bel lavoro di squadra. Giulio Bellomo è stato un po' il motore propulsivo di tutta l'iniziativa e sarà poi colui che in pratica si occuperà di portare anche scolaresche, turisti, bitontini sui campanili, perché adesso si può visitare, vero? Certo, è fattibile la visita perché dopo il restauro ci sono, diciamo, una bella scalinata tutta recuperata. E c'è poi una terrazza panoramica che io l'ho denominata la terrazza della meditazione, in quanto ci sono ancora dei resti, dei banchi di pietra dove, secondo il mio modesto parere, i monaci, nel momento in cui erano il convento, andavano a meditare o a pregare, perché c'è una vista veramente particolare di questa terrazza. Quando volete sono a vostra disposizione. Ripeto, io ci avrei da dire solo una cosa, forse, diciamo, nel nostro piccolo, io dico nel nostro piccolo perché è stata, diciamo, fatta dall'arci confrattente Rosario, nel nostro piccolo abbiamo recuperato una piccola pietra di quell'immensa pietra che noi sappiamo che abbiamo, Bitondo, tutto il borgo antico. E mi auguro che non solo le confrattente, ma i privati, le istituzioni, tutti quanti ne possano mettere a disposizione, ben vengano che queste pietre ritornano come, diciamo, i nostri antenati li hanno veramente scolpiti. Siamo con Don Ciccio Acquafreda, che è il padre spirituale della parrocchia di San Giovanni ed è il motore propulsivo, insomma, di tutta l'iniziativa, è quello che ha sostenuto, con entusiasmo. Don Ciccio, un bel risultato quello tenuto per la parrocchia di San Giovanni? Senz'altro, è stato un desiderio tanto atteso da diversi anni, quindi siamo felici di aver potuto portare a termine quello che era un desiderio soltanto. Adesso, invece, è una realtà, una realtà che certamente porta non soltanto la gioia di vedere una Chiesa rinnovata, trasformata, ma anche la gioia di vedere un popolo che si incontra, che trova quella Chiesa, che diventa il luogo comune in cui elevare al Signore la preghiera, anche la gioia di poter essere e trovare una casa degna, ecco, di essere case di Dio, Chiesa di Dio. Quindi, diciamo che si sono raggiunti due obiettivi. Il primo, quello di, diciamo, portare a termine una opera, quale è quella della Chiesa di San Domenico, un'opera d'arte molto bella. Oltre al barocco, anche la Chiesa, in tutto il suo complesso, veramente ha ritrovato il suo splendore. Ma anche aver ritrovato la gioia, la soddisfazione della gente che partecipa con entusiasmo, con serenità, ma anche con fiducia, perché il luogo anche crea anche uno spirito maggiore di fede.